Noi proseguiamo manifestazioni in tutta Italia dopo la morte di uno studente diciottenne durante uno stage in fabbrica. Stamattina presidio anche a Bologna con durissime accuse al mondo della politica. Le ha raccolte Giorgio Maria Leone. Continueranno a votare il Presidente della Repubblica. Mentre loro fanno i giochi dei bottoni e scrivono Amadeus sulle schede, ci sono persone che vanno a fare lo stage e ci rimangono. Un giovane studente muore a Udine durante uno stage in fabbrica colpito da una sbarra d'acciaio e la politica non è nemmeno capace di aprire una discussione sul modello dell'alternanza scuola-lavoro. È il messaggio da Bologna di una rete di studenti, sindacati e partiti di sinistra. Lorenzo Parelli aveva 18 anni, doveva essere tra i banchi di scuola, ma una legge dello Stato che vuole più formazione tecnica e meno pensiero critico lo ha mandato a lavorare senza retribuzione in un contesto pericoloso, tanto da rimetterci la vita all'ultimo giorno di stage. Con le inchieste che abbiamo fatto come giovani comunisti risulta al momento totalmente carente la formazione fatta ai giovani per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Non è il primo incidente, se le cose non cambiano non sarà nemmeno l'ultimo. Il rischio che le imprese approfittino degli stage per avere manodopera gratuita è stato più volte sollevato da alcuni sindacati. Che ha introdotto quelle norme di legge, le ha votate, spiegano gli studenti, deve ritenersi politicamente responsabile di quanto accade. Al governo e al Parlamento chiedono di tornare al sistema dell'apprendistato più sicuro perché è sottoposto ai contratti nazionali di lavoro. Non si può andare dei ragazzi a lavorare senza avere un'adeguata formazione in posti che non garantiscono e che non hanno avuto controlli da parte delle scuole e degli istituti sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.